Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Nino D'Angelo ha annunciato con gioia sui social media l'arrivo del suo sesto nipotino, Arcangelo. Con un post su Instagram, il cantautore ha dato il benvenuto al nuovo membro della famiglia scrivendo, sei volte nonno. Arcangelo benvenuto nel mio cuore, accompagnato da una tenera foto del neonato. Numerosi messaggi di auguri sono arrivati da amici e fan, tra cui il calciatore del Napoli Pasquale Mazzocchi e la showgirl Patrizia Pellegrino. Sul suo profilo Instagram, Nino D'Angelo condivide spesso momenti affettuosi con i suoi nipoti, come fotografie in spiaggia o durante i compleanni, mostrando il suo ruolo di nonno di mare. Prima di Arcangelo, era già nonno di Maya, Edoardo, Leonardo, Luca e Gaetano. Durante un'intervista a Verissimo, ha parlato con affetto dei suoi nipoti, descrivendoli come pezzi di cuore e raccontando episodi divertenti. Come la competizione con sua moglie su chi riesce a far ridere di più Luca. D'Angelo ha anche riflettuto sull'importanza delle famiglie numerose, ricordando la sua infanzia con sei fratelli e sottolineando che il suo più grande successo è stato dare ai suoi figli ciò che lui non ha avuto.